Abbiamo visto come generare un segnale di clock, purtroppo per legge l'abbiamo dovuto usare un oscilloscopio. Non avevo a disposizione quando ero piccolo un oscilloscopio, quindi per vedere questi segnali andavo a dividerli. Vediamo quindi come realizzare un circuito utile anche oggi, formato da un clock e un divisore di frequenze. Iniziamo subito. Abbiamo realizzato la scorsa volta un semplicissimo oscillatore utilizzando delle porte invertenti con trigger di Smith, prese dal 74-14. Io so che molti di voi se non vedono lampeggiare un qualcosa non sono contenti. Anch'io quando trafficavo da piccolo avevo anche piacere su questi circuiti di vedere poi qualcosa che si muoveste. Purtroppo per come abbiamo realizzato il nostro circuitino, quindi è un oscillatore che va a qualche centinaio di Hz, quindi non è visibile. Io ai tempi, quando avevo 10-12 anni, non avevo un oscilloscopio, quindi ero sempre in difficoltà. Allora, cosa facevo? Andavo a rallentare il clock. Qui abbiamo visto però che abbiamo un problema. Su questo circuito, che abbiamo analizzato l'altra volta, che mi può generare il mio segnale di clock, quindi eventualmente anche modificabile, se gli mettiamo un trimmer, quindi possiamo andare a scegliere la frequenza. Per esempio con un K, qua gli mettete 10K, potete fare un po' di esperimenti. Condensatore qui da un microfarad non polarizzato, questo mi genera il mio clock. Lo proteggo con una seconda porta invertente e posso prelevarlo. L'alimentazione qua sul 7,14, questo è 3,4 se non sbaglio. Ok, solo che è troppo rapido, quindi abbiamo visto qua uscivamo circa a un 600 Hz. Come faccio a rallentarlo? Non posso scendere troppo, quindi modificare questi valori, perché altrimenti lo mando in crisi, non uscirà più. Un sistema furbo che mi permette anche di ricavare numerose uscite, quello di andare a mettere un contatore che mi fa da divisore. Possiamo usare per esempio un CD4020BE. Questo chip è un binary counter, quindi un contatore binario. Ha una serie di uscite, adesso vi faccio vedere il datasheet. Eccolo qua, vedete, è un storico abbastanza datato, però si trova ancora, quindi CD4020. È molto semplice come utilizzo, ha l'alimentazione, quindi 16 e questa parte 8 il ground, quindi ha 16 pin. Ha un reset che andremo a collegare a 0 e riceve semplicemente un clock sul pin 10, impulsi d'ingresso. Qui abbiamo queste linee e vanno a generare un conteggio binario. Poi proverò a disegnarvi il segnale in modo che sia chiaro quello che accade. Qui vediamo le sue specifiche. Allora, dobbiamo segnarci qua le uscite, vedete, c'è 9754, sono un po' mischiate, vanno da Q1 a Q14. E queste servono per andare a prelevare il segnale e le varie decadi che vengono prodotte. Le chiamo decadi, ma comunque sono le suddivisioni. Potremo poi capire quello che esce andando a curiosare con un LED che collegheremo al volo. Allora, andiamo ad aggiungere il nostro 4020 a questo circuito che abbiamo realizzato. Questo qui è il nostro 4020. Lo andiamo a alimentare anche lui a 5V. Qui abbiamo il ground che prendiamo sul 8, questo è il 16. Portiamo il nostro clock su il pin numero 10. Ricordiamoci di collegare il reset, quindi questo qui è il reset sul pin 11. Lo mettiamo a ground in modo da attivare il circuito. E qui poi possiamo andare a prendere una qualsiasi delle sue uscite in cui troveremo il segnale suddiviso in varie frequenze. Dovrebbero essere tutte divise per due, se non sbaglio. Quindi abbiamo per esempio il pin 9, il Q1, poi abbiamo sul pin 7 un'ulteriore uscita e così via, fino ad arrivare all'ultima. Fate riferimento al datasheet per i vari pin. Cosa succede? Il clock entra e andrà a generare su ogni pin di uscita delle suddivisioni. Quindi immaginate che questo qua è il clock. È molto rapido. Sul primo dei pin troverò un pin che lo riproduce esattamente, un altro pin che scatta ogni due. Quindi quando questo si alza genereremo un'onda di questo tipo, un altro che me la fa al doppio e così via. Quindi genera tutta una serie di suddivisioni, quindi di divisioni della frequenza originaria che andiamo a inserirgli. L'ho ricreato su Breborn e andiamo a vedere se funziona effettivamente. Per provarlo basta collegargli una resistenza, quindi la solita da 3,90 con il LED. Attenzione, queste uscite sono buffered, quindi hanno abbastanza corrente per alimentare un LED senza problemi. Qui ho messo un jumper in modo che poi di volta in volta vado a toccare le varie uscite e vedrete il LED lampeggiare con diverse frequenze. Eccolo qua, vedete sempre con l'oscilloscopio, lì di fianco c'è il LED. Ci sono pin che lampeggiano anche dopo un qualche secondo, quindi bisogna con pazienza mettersi lì e provarli tutti. Questo è un po' più rapido. Questo è uno di quelli lenti. Questo quasi fa un secondo, questo un pochino più veloce. Questo quasi un secondo. E così via. Quindi tenete presente questo semplicissimo circuito che può essere utile per crearsi anche un generatore di clock universale da tenere sul banco del laboratorio quando bisogna varie frequenze. Per questo circuito ho usato il CD4020BE, ma non è l'unico tipo di circuito integrato che svolge queste funzioni. Ce ne sono tante altre possibilità, tante varietà. Magari ne vedremo qualcuna nei prossimi video. Spero sia stato interessante. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao! Ciao!